qualcosa. Insomma, giri sempre nuda, ma ti sembra questo il modo di comportarsi? Ma io non lo so, ma tu vedi il male dappertutto, dappertutto. Ma e tu allora? E tu allora quando l'altro giorno siamo andati a fare la colazione al sacco con la signorina di Emamur? Cosa, cosa? La signorina di Emamur? Sì, sì, quando le hai succhiato il collo. Ti sembra una cosa conveniente? Quando le ho... Ho succhiato il collo. Quando le donne si mettono in mente di scrivere la storia... Ah, perché non è vero che le hai succhiato il collo, eh? Sì, sì, le ho succhiato il collo, le ho succhiato il collo, le ho succhiato il collo e me ne va bene. Tanto, torna tutto a mio onore. Ah, te lo credi, eh? Ah, non penserai che l'abbia fatto per il desiderio ispiratomi dalle sue quaranta primavere o dalle tracce di vaiolo che ha sul naso. Con voi uomini non si sa mai, sono così viziosi. Purtroppo l'aveva punta una mosca maligna e la puntura aveva un bruttissimo aspetto. C'era già un forte gonfiore. Non potevo certo farla morire di carbonchio per rispettare le convenienze. Ma cosa ne sai tu se la mosca c'era il carbonchio? Ah, io non so niente, ma nel dubbio non potevo esitare. Una puntura di mosca può essere mortale se non viene cauterizzata o se non viene succhiata immediatamente. Per cauterizzare non avevo niente, per cui mi sono sacrificato. Ho fatto ciò che comanda la carità cristiana. Ho succhiato. Ah, però se avessi succhiato io il collo del signor Biascianella, allora sì che avrei avuto il fatto mio, eh? Oh, beh, senti, naturalmente, Clarissa. E questo tu la chiami giustizia, la chiami giustizia! Eh, c'hai un modo di discutere, che disarma! Eh, anche tu però mi dici cose che mi feriscono, allora io mi impunto, eh, più forte di me. Io? Io ti dico cose che ti feriscono? Sì, 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 che vado sempre in giro nuda, che succhio il collo al signor Biascianella. Eh, ma non ho mai detto questo. Beh, insomma, che do i pizzicotti sulle cosce al signor Biascianella. Eh, eh, quando fai delle cose che disapprovo, avrò pure il diritto di farti un'osservazione, spero. Eh, non dico di no, ma potresti farmene un po' più gentilmente. Lo sai che se mi parli con dolcezza, puoi fare di me ciò che vuoi. Va bene, d'accordo, gentilmente. Ti supplico di non girare più in camicia come hai fatto fino adesso. Eh, di nuovo. Cosa? Ridillo. Ti supplico di non girare più in camicia come hai fatto fino adesso. Così. Non girare sempre nuda, tu lo sai che mi dispiace, sembra proprio che tu voglia farmi arrabbiar. Sì, lavoro tanto e non vado molto a te, ma con questo non vuol dire che non ti amo da morire. Io non giro sempre nuda, dai non mi rimproverare, sai che ti amo e che ho bisogno di te. Vieni più vicino e non litighiamo più, non girare sempre nuda, amore. Io non giro sempre nuda, non pensare che sia matta. Ma lo faccio perché tu ti accorga di me. Da una settimana non usciamo più e poi, se tu fossi un po' più dolce, io non ti farei arrabbiare. Dolce amore mio, ti prego, non ti devi più scordare, che ti amo e che ho bisogno di te. Vieni più vicino e non litighiamo più, non girare sempre nuda, io non giro sempre nuda. E' un po' più dolce, io non ti amo e che ho bisogno di te. Bravo, molto carina, bravi. La musica di chi è? La musica è mia. I testi? Della canzone sono di Maurizio De Razza, la musica l'ho scritta insieme a Carlo Cordio. Parliamo di questa evoluzione dei cantanti, abbiamo detto che molti si fermano alla musica leggera, i dischi e molti vanno avanti, possiamo fare dei esempi celeberrimi, tanti, diciamo, silentano per esempio, cinema anche, cinema, Dorelli, è partito sempre dalla canzone, la partenza, la matrizia, Modugno, Milva, ti ricordi quando cantava quattro vestiti, com'era? Quattro stagioni! Oppure Flamenco Rock adesso fa Brecht. Adesso fa Brecht. Brecht, Streller, Tuber, e con che classe? Con che classe? Veramente è cambiata dal giorno alla notte, cioè è un'altra strada, non tutti, come dicevamo prima, se lo possono permettere. Ci vuole del talento. Noi ancora non sappiamo se ce lo possiamo permettere, ci stiamo provando. Era molto carina, devo dire, veramente carina. Però tornavo. Allora vienla a vedere. Vieno a vederla. Vuoi dire il teatro? Ma il teatro non fa niente, comunque il titolo della commedia è sempre. Ecco, sì. La signora è sempre in camicia. Ecco, ma perché? Ecco, dobbiamo precisare che ovviamente... Anche io questa sera ho una tuta, non ho una camicia da notte. In scena, in scena lei sta con una camicia trasparente. Vedi, gli uomini però come sono prevaricatori, il microfono si è ritenuto sempre lui. Ma perché io ho la voce potente, non ho bisogno di microfono. Ma com'è sta storia? Viaggi nuda nel parco scenico? No, no, non nuda. Sotto c'ho una cosa e sopra c'ho questa camicia trasparente. Vabbè, quindi insomma si può fare. Ho fatto vedere anche le gambe. Mi hanno detto che posso farle vedere, anche se sono piccola, insomma. Vabbè, adesso qui non facciamo... Vabbè, vabbè. Tornando ai dischi, lì sul piatto numero due c'è un disco, un vostro disco, e vogliamo farlo sentire perché ancora i Vianella continuano... Ecco, come dischi stiamo un po' in ritardo, effettivamente. Sì, per il fatto che abbiamo preparato questa commedia, abbiamo un attimo accantonato la preparazione di un disco, cosa che ci ripromettiamo di fare adesso. Però vogliamo far sentire... Sul piatto c'è una cosa che non è proprio recente. Comunque è la più recente. Hai visto il micro? È importante. Hai visto il micro? Appena parla lei, tu subito... Vabbè, non parlo più. Come si chiama questa canzone? La canzone si chiama Importante. Di chi è? Di Lopez e Vistarini. Vistarini, va bene, adesso la mettiamo. Imperano questi Vistarini. Sì, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Allora, mettiamo questa canzoncina sul giro di schermo 2. Canzoncina, canzonciona, e arriva. Eccola. La caldiana? No. È importante un fiore da rubare È restare a letto a chiacchierare È gelosa, eh? È mettersi le scarpe da... E' importante amarsi come tanti E direi come amanti E' un po' di compagnie Succedono cose turche qua, eh? Che gelosie. Grazie, ragazzi. Un po' corta, lui aveva già sperato. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Vivianella.